come ti chiami valentina mi chiamo lisa cardellini riccardo nicolai elpo di dove sei di perugia sono nato e cresciuta perugia basilicata sono nato a panermo dove hai studiato che lavoro fai e dove psicologa e psicoterapeuta qui a perugia sono medico specialista in pediatria a berlino lavoro come project manager ad amsterdam ingegnere meccanico a foligno quanto tempo ci hai messo a trovare un lavoro dopo la laurea dipende che intendi nel senso lavoretti subito il lavoro che faccio ora c'è voluto un po insomma per ingranare più o meno quanti anni ma un paio l'ho trovato subito dopo la laurea anzi ho iniziato un tirocinio prima di laurearmi e poi sono rimasto in azienda subito dopo la laurea ho iniziato a fare la guardia medica a perugia il mio primo lavoro dopo la laurea l'ho trovato all'incirca dopo un anno e non è lo stesso lavoro in cui lavoro adesso perché hai deciso di rimanere in umbria perché mi piace la mia città e credo che abbia delle buone potenzialità l'amore che ho per perugia lo stile di vita che si acqua rispetto ad altre zone d'italia magari perché andarsene dall'umbria me ne sono andato perché ho vinto una borsa di studio per fare il percorso post laurea all'estero e poi delle circostanze mi hanno mi hanno fatto rimanere qui in olanda me ne sono andata dall'umbria perché hanno rimandato per una durata totale di nove mesi il concorso per entrare in specializzazione vorresti tornare e in caso per quali motivi il mio cuore è e resta per sempre umbro quindi ovviamente vorrei tornare se ci fossero le condizioni sufficienti per farlo ed adeguate vorrei tornare in italia l'intenzione c'è ma non so quando questo succederà probabilmente sarà sarà più in là con il tempo decisamente non adesso per chi è rimasto vorresti andarvene non vorrei andarmene assolutamente per il momento no spero di rimanere qui perché per il momento mi sto trovando bene il motivo per andarmene potrebbe essere una proposta di lavoro e rinunciabile cosa consigli a chi si laurea in umbria oggi io consiglio di non limitarsi esclusivamente a quello che il percorso di studi propone come offerta didattica ma di capire fin dall'inizio prima che prima di laurearsi quale sono le abilità le skills che poi permetteranno di raggiungere un posto di lavoro che ti soddisfa sia da un punto di vista economico ma anche personale e di investire in queste in queste skill anche prima della anche prima della laurea capire fin dall'inizio cosa potrà renderti un profilo interessante e competitivo nel mercato ecco gli consiglio di non smettere di credere ai propri sogni anche se la società e le situazioni che si trovano in umbria non sempre sono semplici perché l'importante nella vita è fare quello che si vuole fare e non quello che la società ci impone di fare consiglio di buttarsi nel mondo del lavoro anche se all'inizio il percorso può sembrare difficile diverso da quello che si aspettavano provare riprovare e trovare la propria strada dai e dategli e forte perché qua le possibilità ci sono secondo me